Questa meravigliosa terra è famosa anche come Food Valley. Io sono Andrea Petrini e insieme ad alcuni tra i più importanti chef internazionali e giornalisti di settore andrò alla scoperta delle ragioni per cui così tante eccellenze gastronomiche si sono date appuntamento proprio qui, in Emilia. Wow, grazie. Emilia Food Experience, in Prima TV, domani dalle 22 su Food Network, canale 33. Beh, allora ci vediamo là.